Oggi non è più di mangiare, penso proprio che andrò a dormire da un sacco di giorni dove andrò, è arrivato il momento di riposarsi più francati e cominciare nuovamente ad andarsi a parte. Ho già deciso di espare un po' più a fondo questa maniera. È bello che non è molto grande, però ci sono degli scomi da scoprire, per cui ho intenzione di farmi da fare. Prima di tutto stavo pensando che non sarebbe una cattiva idea, d'arma si chiamata, ma dove stavano i miei server fish. Tutta questa terra mi può essere utile e soprattutto devo recuperare l'an efficiente di una vacca, che non sarebbe la via come ha fatto a ritirarsi quindi adesso devo aiutare questi due a giungere l'one all'uscire e la cosa non sarà per niente facile. Ma quanto di pazienza e di buona volontà, soprattutto dovremmo andare a vivere per il meglio. Eccola qui, dai piccola, ti sto facendo una bella strada e questo dove cazzo si era nascosto. e ovviamente era uno dei residui dell'uscire. Bene, adesso che abbiamo liberato carambella alla mercata, sempre rimane, dove c'è anche il momento da posto, guardando il momento non potrò utilizzare tutta la tenenza del canale che stava in vento, però potrei fare il bascindio di viaggiatura, un po' di avere inziettoria, un po' di attività, un po' di attività, un po' di attività, andiamo a cominciare vedo bene fare così lasciandolo in vuoto sotto ecco vedo assolutamente il manto però visto che al buio spuonano gli stronzi ho questo sistema da dove riuscire a sciogliere senza affatto problemi e lui non ci credo già appena ti raccorda un buon non ci credo ma che scema sta mucca sali sali vedi sempre che non c'è altro mali vuole scema vuole scema non ci credo ma che i tuoi compioni vanno andare a prendere il pirano non ci credo non ci credo non ci credo non è questa sta ancora qui dai esci esci vado a prendere in fretta in fretta prima che questa qua vado a portarsi un'altra tecnica qua giù ecco qua tutto di sotto e faccio un altro luogo e ora pensare che si dovrebbe andare bene pensando che visto che mi trovo una barra in mano ma che piedi l'arma sistemata anche tu potrebbe essere un buon'idea e di levato gentilmente dei copioni e così posso riuscire a sfruttare la pezza di acqua per aranumpo naturalmente anche se considero ancora il grano non considero questa ancora un affare ma che casino c'è essere uno scuola di anima questa parte e con molta compatibilità ma la posta materiale lo trovo sul video non riesco a mettere questa qua dietro allora dove sto ci sono i superficie di te che ci stanno sulla lunga ochto sono i Last Negri città Z'uomo è super cazzo 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 e trovo amico cazzzo cazzo steno fa leva Ugni들을 famoso borgheda purtana mento anche non hanno di normalmente si sticco a me mi saranno proprio spesso evitare aspiro e fando poi sapere l'anima di mortaccio no ma non battere di grada eh questi si arrampicano si si arrampicano gli stoni se li si arrampano andate a andare a mangiare qualcosa sennò diventano un bestiazio e te parebbe nulla qua come mi volete no ma non credo un paio di respirare di quanto di odio ma tra me mi stanno subito e ora sapresti credo di sta cazzo di mappa non di cazzo di raggiungere le luci a mezzo no lo so perchè ma avevo la sensazione che quando questi giorni si arrampano le luci a fare una nuova bestia ma devo chiedere quel buco graffi mica non posso più lavorare più o più o più mi faccio pure a solda non mi faccio un po' con l'alto sono una bestiazio e per fare un po' e per fare un po' e per fare le nuove e per fare un po' e per fare un po' e per fare lo e per o meno e per fare svevare un po' e poi io mi mando i cazzo ma non bello vedo la farpa la sotto a prendere quel buco Devo fare anche in fretta. Mi danno un occhiadro, invece a me sarei portandolo sotto lì. Ma questa scada non faccio un cazzo. Mi danno una scada che non faccio un cazzo, ma non faccio un cazzo, ma non faccio un cazzo. Sì, non faccio un cazzo. Niente da fare, lo riesco l'ambicinante a portarla. E poi l'anno rinforzato, è una continuazione. Per cui sono costretto a fare solo una maggiore senza questo fai, sono... ... devo assolutamente chiudere qualche un poco... E' un po' Ma adesso che resta un cazzo E' un uomo e che paure Ma i lamberofili erano una cuore di mire Se avessi denomato la punta dei lampi infettanti saluti Per non me, facciamo così Ma sto pensando una cosa Visto che per il momento non posso ammazzare loro E' una cattiva idea E' una cattiva idea Visto che le vacche stanno fuori Visto che è una carne mi serve Ma se quasi non metto a farmi un bel recinto Per queste Vacche Così Con calma Finisco Tanto fa le conci ma un po' Che paure mi serve ora E' un cazzo 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 Cos'è E' un cazzo E' un cazzo Eccolo, scusate ma non ho bisogno di un cibo, basta, scusate ma siamo in tutta situazione, quindi devo mangiare Allora, che devo fare? Ah si, devo fare, mi servono tutte le spaccionate e quindi avrò bisogno di un po' di inizio Mi troppasse la mela, sti giorni di puttana, direttamente Se ce l'ho mandato in braccia, qua ce l'ho mandato alla segna Ok, che culo Per me, almeno uno dall'altro parco, mi ha fatto una grazia, però penso che l'ho accetta, qua ci vorrebbe la segna E allora c'è uno che disse che se ne intende un bello, non vi potrei immaginare quante notate E a un po' se con il legno che abbiamo raccolto ce la facciamo fare abbastanza infaccionate e poi 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 dopo e poi e poi e poi e poi e quindi anche gentile si è poi chiusa dentro una sola ok no vado a trovare una compagna per cui il video lo finiamo qua se questo video vi è piaciuto sostenetelo mettendo un like se il non vi è piaciuto non sostenetelo e mettete un dislike se mi piace questo tipo di gameplay vi si vede via al canale solo se lo guardate ok io metto un attimo i cancelletti e poi vado a trovare una compagna per questa fila di bambini così da un po' di grano che le faccio trombare a presto